Riuscire a combattere l'insorgenza di questi problemi in maniera preventiva è molto più efficace rispetto a intervenire dopo quando la coltura è già stata attaccata e con Amistr Top questo funziona. Ho notato che è molto più efficace che gli altri prodotti perché sono due principi attivi e uno aiuta l'altro e non crea resistenza. Sono soddisfatto di Amistr Top